Do il benvenuto alla redazione di Transform che ho il piacere di rappresentare a Bifo che è un compagno antico a cui vogliamo bene e che seguiamo spesso nelle riflessioni che ci regala. Lo intervistiamo attraverso la voce e le intenzioni di Pino Nicolosi Rattus che ora, come dire, riempirà il nostro schermo. Eccovelo. Ciao Pino, è sempre un piacere vederti. Anche per me, Franco. Allora, qui faccio una brevissima presentazione di Franco, di quelle diciamo ordinarie che si fanno sempre. Si dice che Franco è tra i fondatori di Radio Libre insieme ad altri, una delle prime Radio Libre italiane. E' stato il principale ispiratore dell'alla creativa del Movimento del 77. Oggi è un celebre esaggista, ha pubblicato decine di opere tradotte in moltissime lingue, nelle europee ma anche negli Stati Uniti, in Sud America, in Asia. Qualche anno fa ha scritto anche un romanzo insieme a Massimiliano Geraci che si intitola Morti ai Vecchi. Ha collaborato alla realizzazione di diversi film. Vale almeno citare Comunismo Futuro con Andrea Groplero. In generale, essendo una persona che si è lavorata molto presto in estetica con il professor Luciano Anceschi, è anche un esperto d'arte e un artista. Spesso viene definito agitatore culturale. Ecco, io inizierei proprio da questo tuo ruolo, diciamo così, di artista e di agitatore culturale, prendendo un caso che risale a qualche anno fa, ma come vedremo sta tornando estremamente attuale, una vicenda che parte nel 2016 e proviamo a ripercorrerla un po' insieme. Dunque, tu ricevi nel 2016 un invito da parte di Documenta, che è un'importante rassegna di arte contemporanea che si tiene a cassa all'in Germania, ricevi un invito per presentare un'opera. Nell'estate del 2017 avresti dovuto presentarla. Proponi loro una performance, un'opera con una performance, che ha come titolo Auschwitz on the beach. Un titolo che quantomeno suggeriva un'analogia, insomma, tra le morti dei migranti in mare che in quel periodo erano elevatissime e il tristemente noto campo di sterminio nazista. Questo titolo è sufficiente a scatenare una tempesta di reazioni. Interviene il sindaco di Kassel, il ministro della cultura tedesco, i giornali. L'accusa mossa contro di te è stata quella che tu avresti relativizzato l'Olocausto. E questa è la formula. Allora, in realtà, la presentazione dell'opera non ci sarà. La sera del 24 agosto tu fai un'altra cosa. Ecco, ci racconti un po' come è andata, che cosa hai fatto e che cosa non hai fatto? Molto volentieri. L'accusa che mi venne di avere relativizzato l'Olocausto in qualche misura non mi sorprese, perché il titolo che io avevo proposto in qualche misura era l'opera. Io intendevo dire, e intendo ribadirlo adesso, che quello che l'Unione Europea nel suo complesso, lo Stato italiano in modo particolare, sta facendo nel Mar Mediterraneo, in tutto il bacino mediterraneo, ha le caratteristiche dello sterminio a sfondo razziale. Sterminio razziale. Auschwitz dunque. La costruzione di un vero e proprio arcipelago che va dalla Turchia all'isola di Muria, all'isola di Lesbo, al confine croato-bosniaco, alla Sicilia, alla Puglia, a Ceuta, a Meliglia, a Calais, eccetera, eccetera. Un'arcipelago di campi di concentramento per migranti, per quei migranti che hanno la fortuna di sfuggire alla morte per acqua. Morte per acqua, internamento. Questo è il destino che noi, europei, abbiamo destinato a coloro che fuggono da paesi come la Siria, l'Afghanistan, la Libia, paesi che noi, bianchi europei, abbiamo devastato, messo alla fame. Ecco, io affermavo allora, affermo oggi, che si tratta di un olocausto. In questo mi accompagnava, mi accompagna una persona che si chiama Alex Zanotelli e questo mi basta, il nome di Zanotelli mi basta per affrontare qualsiasi insulto. Bene, cosa è successo dopo? È successo che, quando ho saputo che c'erano dei gruppi di fanatici sionisti con la bandiera bianca e blu che protestavano contro quel titolo, mi sono precipitato a Kassel e sono andato nella sede della Sarah Nausbaum Center, che è il centro ebraico della città di Kassel. Là ho incontrato la signora Eva Jander Schultz, che era, e credo sia ancora, direttrice del centro ebraico e c'erano sette suoi collaboratori. Con loro ho discosso le ragioni per cui avevo scelto quel titolo e Eva, che interloquiva con me, mi ha detto guarda che noi siamo d'accordo con quello che stai dicendo, però, anzi, mi fece notare che io avevo dimenticato un particolare importantissimo e cioè che nel 1939 100.000 ebrei tedeschi erano fuggiti in barca per raggiungere le coste inglesi ed americane e vennero respinti con le stesse motivazioni con cui oggi noi respingiamo gli africani, vennero respinti e rimandati nella terra di Hitler. Quindi mi disse, figuriamoci se non siamo d'accordo con te. Però, mi disse Eva, quel nome, quel titolo, per molti di noi è un titolo inquietante perché ci ricorda qualcosa che è troppo doloroso. Io, che avevo già preparato la mia scenetta, dissi, d'accordo, cancello la mia performance, cancello quel titolo e questa sera spiegherò perché. Però, in cambio, chiedo a te, Eva Schultz-Gander, di accompagnarmi al Fredericianum nella sala e di parlare con me. Eva mi accompagnò, intervenne accanto a me e quella sera per me fu la migliore risposta ai fanatici che appoggiano gli assassini colonialisti dello Stato di Israele. Questo è quello che è accaduto in quella occasione. Purtroppo la storia non è finita perché oggi, in questi mesi, a Kassel si sta svolgendo un nuovo capitolo di questa interminabile persecuzione sionista nei confronti della libertà di pensiero. Un artista palestinese, che si chiama Yaral Khalili, è stato invitato a esporre a Kassel entro un documento a 15. Bene, nella sua sala sono entrati degli intrusi, hanno devastato la sala con delle scritte che sono in minacce di morte implicite ed è stata organizzata, è organizzata per il 16 luglio prossimo, una assemblea nella quale si condanna l'antisemitismo di documenta che invita orrore dei palestinesi e contro l'antisemita Franco Berardi. Ecco, questa è la piccola storia che voglio raccontare, che ho raccontato. Ecco, grazie Franco. Ecco, devo dire che io ho letto questo testo in tedesco che sta su Facebook e che dice appunto che tu saresti un antisemita. Francamente questa suona a chiunque ti conosca insomma come un'enormità, una sciocchezza delle dimensioni colossali. e tu come pensi di reagire a una cosa del genere? Ma tanto per cominciare io voglio ricordare che personalmente mi considero ebreo. Mi fanno pena coloro che credono che l'identità consista nel colore della pelle, nell'origine del territorio dal quale provieni, nel sangue della famiglia dalla quale provieni. Non credo che l'identità, ammesso che questa parola significhi qualcosa, non credo che si fondi sul sangue e sulla terra, credo che si fondi semmai sulle scelte che una persona compie nel corso della sua vita. La mia scelta è stata non solo di leggere Gershom Scholem, Walter Benjamin, Amos Hoth, Abraham Yehoshua e cento altri scrittori, poeti, filosofi, teologi ebrei, non solo di leggerli, ma di imparare da loro una cosa essenziale, e cioè che noi non siamo quello che il sangue fa di noi, noi siamo quello che l'intelligenza, la cultura fa di noi. Io sto dalla parte dei milioni di ebrei che si sentivano già europei quando l'Europa non esisteva, nei milioni di ebrei che hanno fatto l'internazionalismo proletario e anche la democrazia borghese. Senza quegli ebrei non ci sarebbe stata la democrazia, non ci sarebbe stato il socialismo. In questo senso io sono ebreo. E se c'è qualcuno che si prova a definire di antisenita, a costui io riservo non uno sputo in faccia, non una risposta, ma tutto il mio disprezzo. Ecco, con disprezzo rispondo all'accusa che questi signori fanatici hanno fatto nei miei confronti e nei confronti di Haral Khalili, artista palestinese. A questo proposito ho scritto un testo che farò circolare nei prossimi giorni e mesi, prima di tutto in Germania. Ecco, questo è tutto a proposito. Sì, no, io volevo chiederti questo perché appunto Transform si è fatta promotrice l'anno scorso di un'iniziativa che si chiama Media Alliance e che ha appunto come obiettivo quello di costruire diciamo un'opinione pubblica meno sensibile alla stampa nazionale perché nel caso di Auschwitz on the Beach insomma, per esempio, la copertura da parte della stampa nazionale è stata praticamente inesistente mentre quella della stampa diciamo così tedesca in particolare è stata del tutto ostile. Quindi in qualche modo credo che Media Alliance potrebbe essere che è appunto un network di giornalisti, attivisti, media attivisti, direttori di testate, ecco, potrebbe essere un metodo diciamo così per rendere sempre meno probabili i casi di cattiva informazione come quello che è capitato a te. Ma dunque Auschwitz on the Beach e la polemica che seguì ebbe la prima pagina del New York Times nel settembre del 2017. Come mai la stampa italiana non ne parla? Ma sai, stampa italiana è un'espressione che fa sorridere. Cos'è la stampa italiana? Cos'è? La Repubblica? Un giornale che mi vergogno di avere letto in alcune occasioni. Un giornale che non compro in edicola perché mi vergognerei di essere visto comprare un giornale infame come la Repubblica. I giornalisti italiani. Esistono i giornalisti italiani? Certo, alcuni esistono. Quelli che scrivono sul manifesto essenzialmente e anche quelli che scrivono sull'avvenire. Ma gli altri chi sono? Chi sono coloro che non si vergognano di mettere la loro firma su un giornale come La Repubblica o come Libero? O per parlare del più spudorato di tutti Federico Rampini? Come fa a non vergognarsi di comparire sul giornale di casa Agnelli e Elkan Stellantis e contemporaneamente su un giornale nazistoide come Libero? Vergognati Rampini se mi stai ascoltando. Certamente non lo fai perché hai molte più importanti cose da fare. Dunque nella stampa italiana io non esisto per mia fortuna da tantissimo tempo. Credo di non esistere sulla stampa italiana dal settembre del 1977 più o meno perché non mi interessa punto non mi interessa niente del fatto che la stampa italiana non si occupi di lei deve occuparsi di calenda e ho detto tutto. Bene adesso invece quelli che si sono occupati di te anche senza l'aiuto della stampa italiana diciamo sono contenti di farti un po' di domande più generali sulla tua storia di pensatore e di teorico e quindi adesso occupiamoci un po' di della tua opera come saggista e come pensatore. Una domanda che volevo farti da tanto tempo dunque una volta ti ho sentito dire che tu consideri un errore che il famoso congresso del 1977 a Bologna avesse come titolo congresso contro la repressione e io ho sopporto il sospetto che almeno per l'ala creativa questa espressione contro la repressione non fosse rivolta esclusivamente alla repressione di stato alla repressione di polizia ma fosse rivolta anche alla repressione del desiderio alla repressione della libido perché quelli erano tempi in cui questi argomenti erano molto frequenti insomma sulla stampa alternativa sulla stampa di sinistra oggi nel tuo ultimo libro che si chiama il terzo inconscio tu fai un'osservazione veramente interessante che è in fondo secondo me il cuore della raccomandazione di quel tuo lavoro la trasformazione complessiva della vita sociale ha cambiato del tutto il panorama rispetto ai tempi di porci con le ali ai tempi del movimento del 77 oggi non c'è più inibizione non c'è repressione ma al contrario tu scrivi c'è un eccesso di visibilità dell'inconscio scrivi l'inconscio è tutto esposto puoi spiegarci questa trasformazione questo passato la domanda che tu mi fai ne contiene perlomeno due e quindi io intendo rispondere ad entrambe se posso farlo la prima che mi sta molto a cuore relativa al convegno o congresso contro la repressione del settembre 1977 e per ricapitolare rapidamente per coloro che magari non sono dettagliatamente informati su quello che accade in quell'anno ricorderò che nel febbraio marzo del 77 in molte città italiane particolarmente a Roma e da Bologna ma non solo si diffuse un movimento quantitativamente molto vasto ma qualitativamente nuovo perché era un movimento che poneva un problema decisamente più ampio della sfera politica un movimento che metteva in questione la vita quotidiana che metteva in questione la percezione del futuro che metteva in questione diciamo così questioni essenzialmente culturali psichiche e non soltanto questioni politiche quel movimento aveva la pretesa e anche la capacità di svilupparsi su terreni che pochissimo avevano a che vedere con le forme stabilite della politica e dello Stato la ricchezza di quel movimento io credo fu nella capacità di evitare le risposte prevedibili fu quella capacità di aprire terreni che non erano prevedibili per la politica dominante per esempio nel marzo del 1976 siccome io mi trovavo in carcere ero stato arrestato dopo l'inizio delle trasmissioni di Radio Alice la risposta della politica e della polizia fu quella di arrestare qualcuno tra gli altri me ebbene come rispose Radio Alice organizzando forse una manifestazione contro la repressione no rispose organizzando una manifestazione che si chiamava facciamo la festa alle repressioni diecimila persone portarono il loro materasso su piazza maggiore la città era piena di materassi e di corpi che si stendevano allegramente su quei materassi ecco un modo per rispondere un anno dopo nel 77 il movimento aveva raggiunto diciamo la massima intensità e ottenne anche una risposta statale particolarmente violenta molti erano in carcere io ero latitante a Parigi e insieme a Felix Guattari e a Maurizio Torreal un amico un compagno di Radio Alice decidemmo di organizzare una risposta internazionale alla repressione che si stava manifestando in Italia e convocammo per il settembre del 77 un congresso contro la repressione ecco io considero questa scelta il più grave errore politico della mia vita perché in primo luogo perché stavamo accettando esattamente il terreno su cui quell'idiota assassino che si chiamava Francesco Cossiga ci aveva costretto a combattere in primo luogo dunque accettavamo il terreno proposto dal dal peggior nemico che il movimento potesse avere errore in secondo luogo staviamo stavamo convocando tutto ciò che il movimento di cui il movimento di Bologna e il movimento autonomo e creativo a livello nazionale stava tentando di liberarsi cioè le forze politiche tardo-leniniste che come degli zombie perseguitavano dall'interno il movimento mi riferisco a chi mi riferisco ai tardo-leninisti delle brigate rosse certamente che vennero a Bologna per catturare qualche militante per la loro organizzazione per la loro organizzazione tardo-leninista per l'appunto ma mi riferisco anche a quelle componenti della stessa autonomia operaia che scatenarono in quell'occasione la loro forza allo scopo di distruggere il movimento nel nei giorni subito precedenti il convegno del 77 ci fu una riunione in Svizzera precisamente diretta da uno dei leader dell'autonomia operaia una riunione che decise questo non l'ho mai detto negli ultimi 45 anni ma ho deciso di dirlo ora e lo ripeterò quando sarà necessario questi signori della redizione di un giornale che si stampava a Milano decisero di distruggere la possibilità politica che il movimento di Bologna aveva portato ad emergenza come scatenando il caos fischiando tutti coloro che parlavano in quella assemblea ecco loro distrussero il movimento di Bologna loro aprirono la strada alle brigate rosse loro aprirono la strada alla distruzione dell'ultima speranza politica e umana che si sia presentata sulla scena della nostra storia poi c'è un'altra domanda e mi scuso se rispondo troppo lungamente perché tu dici ma nel terzo inconscio ci vieni a dire che il problema non è più la repressione ma ma cosa altro ecco quel libro che ho scritto 45 anni dopo 77 quindi molte cose naturalmente sono cambiate quel libro cerca di elaborare una intuizione che però già nel 77 era presente quale intuizione l'intuizione che c'è una storia del dello psichismo collettivo non una storia dell'inconscio perché l'inconscio non è una storia naturalmente l'inconscio non ha prima non ha dopo non ha domani non ha ieri non ha luogo lo sappiamo ce l'ha insegnato Sigismondo Freud e non ce lo siamo dimenticati però la psicosfera cioè la sfera collettiva in cui l'inconscio individuale si modella e con cui interagisce quello sì che ce l'ha una storia che storia una storia che inizia con il momento in cui come accadeva negli anni di Freud la repressione sessuale produce effetti che Willem Reich ha studiato molto bene nella psicologia di massa del fascismo repressione sessuale ovvero accumulazione di un'energia che si esprime in forma aggressiva però poi la psicosfera si evolve e negli anni settanta negli anni in cui Deleuze Guattari scrivono l'antiedito il problema già non è più o non è più solo la repressione è anche il caos psichico prodotto dalla iperaccelerazione della macchina della macchina mediatica che produce effetti sulla psicologia umana ora io intuisco in quel libro che tu hai citato intuisco che noi stiamo oggi dopo la pandemia stiamo forse uscendo dalla sfera dell'accelerazione neoliberale e stiamo entrando in una sfera in cui dopo la repressione dopo l'eccesso panico e schizoide prodotto dal neoliberismo entriamo in una nuova fase che io definisco fase della psicodeflazione cioè dello sgonfiamento della della iper energia cui il neoliberismo ci ha obbligato ecco questo è il senso un poco di quella strana idea di un terzo inconscio un'altra cosa che volevo chiederti da un po' di tempo comunque tu già nel 91 io ho un libricino tuo che si chiama politiche della mutazione che è del 91 e che se ti interessa saperlo lo rendono su ebay a 60 euro no non lo sapevo ho deciso che nei prossimi 10 anni tra 10 anni diventerò ricco perché ho questa copia perché è una rarità come gronchirosa e ecco politiche della mutazione ti chiedevi come restare nomadi in un mondo di serbi e di croati erano gli anni della guerra in Jugoslavia e tu giungevi alla conclusione che l'unico consiglio che si potesse dare a serbi e croati a ibrei e palestinesi era quello di andarsene andarsene per mille strade sfuggire alla tenaglia dell'identità recentemente ha scritto un articolo molto interessante che si chiama Cantami o Diva dedicato alla guerra russo-ucraina e anche in quel caso usi questa espressione occorre andarsene bisogna dire che dal 91 a oggi le previsioni di politica della mutazione si sono rivelate senz'altro come dire preveggenti nel senso che abbiamo assistito a questa a una serie insomma di guerre con motivazioni di tipo nazionalista o identitario diciamo la fuga la sottrazione l'exit saranno pure gli strumenti per sciogliere il nuovo identitario ma i fuggiaschi come dici tu spesso vengono respinti alle frontiere e pare che fin dall'ottocento non ci sono più terre incognite in cui cercare rifugio allora come possiamo immaginare delle nuove politiche della sottrazione ma vedi anzitutto grazie per citare quel libricino che non sapevo fosse così prezioso credo che nella prima edizione costasse forse 2000 lire o 1000 lire forse 500 perché è un libricino di 60 pagine stampato male da un editore locale eccetera però lì mi piace ricordarlo quel libricino perché fra le altre cose si cercava di capire cosa succederà della Russia post-sovietica e in quegli anni la previsione che io facevo insieme a pochi compagni diciamo sopravvissuti alla storia del movimento bolognese e quindi estranei alla tradizione leninista la previsione che noi facevamo è che dopo il crollo dell'Unione sovietica in contemporanea con l'emergere delle politiche liberiste quello che dovevamo aspettarci è che sulla piazza rossa prima o poi Stalin e Hitler avrebbero marciato insieme che è quello che noi vediamo oggi Putin è la sintesi di Stalin con Hitler però sotto bandiera neoliberale ecco Putin è quello che sta accadendo oggi in Russia rappresenta certamente la faccia più violenta della contro-rivoluzione che è cominciata con Thatcher e Reagan appartiene alla stessa storia anche se ne è in qualche modo il momento di svolta di crisi di collasso io osservo disprezzo è l'unica parola che mi viene alle labbra al modo in cui l'intero mondo politico europeo ed italiano reagisce ha reagito negli ultimi mesi alla guerra russo-ucraina tutti coloro che fino a qualche mese fa consideravano Putin come un signore rispettabile del nuovo ordine del mondo oggi hanno cambiato idea non so penso a quel tizio che fa il ministro degli esteri il quale forse è ancora convinto che il Venezuela sia stato governato a un certo punto da un dittatore che si chiamava Pinochet questo ha detto il nostro ministro degli esteri il quale credo che non parli nessun'altra lingua se non quella che ha malamente imparato apposillito questo svergognato membro della casta degli ignoranti è oggi in prima fila nell'eccitare l'eroismo antiputiniano io non chiamo nessun eroismo considero l'eroismo come una malattia dell'anima umana chiamo alla diserzione chiamo la diserzione puntuale in questo caso i miei fratelli russi ed ucraini sono quelli che disertano che fuggono in tutte le maniere possibili nascondendosi sotto letto cercando un buco nella rete della frontiera andando come fanno dieci sembra ucraini ogni notte in una parrocchia che si trova alla frontiera tra l'Ucraina e la Polonia e là cercano rifugio da un prete intelligente il quale ospita ed aiuta i disertori ma la diserzione di cui dobbiamo parlare non è solo diserzione nei confronti della guerra è diserzione dal lavoro è diserzione dal consumo è diserzione dalla procreazione è diserzione dalla politica e guarda questa la diserzione sta diventando il comportamento più importante della nostra epoca ci dicono che in Francia avrebbe vinto Le Pen o Melanchon o Macron non ho capito chi ha vinto hanno vinto tutti e tre ma in realtà hanno vinto il 55% di francesi che non sono andati a votare come in Italia qualche settimana fa chi ha vinto noi che non votiamo abbiamo vinto ecco questa è la grande scoperta che noi ci ritiriamo e giustamente tu mi dici ma dove andiamo qual è il territorio nel quale saremo saldi non c'è non c'è un territorio non c'è perché in questo momento a Bologna ci sono 34 gradi i fiumi sono secchi in tutta la penisola in California bruciano le foreste in Siberia bruciano le foreste in Spagna bruciano le foreste voi che va davanti no non va davanti perché dovunque e punti il dito sulla carta geografica siamo oltre il punto di non ritorno dunque non c'è un territorio quel territorio è la nostra anima mi scuso se uso delle parole ridicole quel territorio è la nostra amicizia quel territorio è la nostra capacità di riconoscere l'inevitabilità del divenire nulla è salutare la morte come amica questo è il territorio che dobbiamo abitare questo è ciò che diciamo ai pochi per loro fortuna sventurati che abbiamo avuto l'imprudenza di mettere al mondo il territorio nel quale dobbiamo convocarli è il territorio della consapevolezza del fatto che non c'è via d'uscita ma una via d'uscita c'è ed è nella nostra capacità di vivere in amicizia il tempo dell'estinzione allora ancora un paio di domande poi sei stato uno dei primi in Italia senz'altro a segnalare il processo di progressiva riduzione del tempo di lavoro necessario il tuo libro del 94 si chiamava lavoro zero e esce con qualche mese di anticipo rispetto al famoso la fine del lavoro di Jeremy Rifkin leggo un passaggio di della fine di lavoro zero tu scrivi in lavoro zero uno spettro si agira per l'Europa e non soltanto qui la libertà del tempo di vita dalla necessità del lavoro gli economisti politici sindacalisti i lavoratori non sanno chiamare con il loro vero nome la libertà e il tempo di vita e allora li chiamano disoccupazione va detto che alla luce anche dei dati che oggi abbiamo sulla riduzione progressiva del tempo di lavoro necessario anche in Italia anche in questo caso sei stato estremamente longimirante pare che attualmente il tempo di vita dedicato al lavoro si aggira intorno al 16% rispetto al resto della vita insomma ai primi del novecento era il 40% il problema è che il tempo libero diciamo così c'è un'enorme massa di tempo libero che che aumenta di giorno in giorno come è evidente perché riducendo la necessità del tempo di lavoro aumenta il tempo libero ma a questo tempo libero pone questioni inquietanti ci sono processi che vengono definiti di estrazione di valore del tempo libero tutta la Silicon Valley si regge in gran parte sul lavoro non pagato di milioni di persone di persone qualcuno ha parlato di lavoro implicito qualcuno ha parlato di lavoro ombra e sono molti a sostenere che dalla fine del lavoro siamo passati a lavoro senza fine che cos'è che ci impedisce in qualche modo così di di riscoprire il tempo libero come attività come attività ludica come attività politica come attività artistica culturale estetica e che cos'è che ci rende invece schiavi degli automatismi digitali e lavoratori impliciti questa è la domanda ma vedi quel librettino lavoro zero del 94 è anche un altro libro che avevo scritto qualche anno prima nel 1970 che si chiamava contro il lavoro libro del tutto incomprensibile mi dicono che si vende su ebay anche quello ma non consiglio a nessuno di comprarlo perché io ho tentato di rileggerlo e non ci sono riuscito però la tesi che sostenevo in contro il lavoro il lavoro zero era una tesi diciamo ortodossamente marxiana riprendevo le intuizioni di marx nel frammento sulle macchine e dicevo lo sviluppo della intellettualità tecnico scientifica la potenza del sapere umano e della tecnologia rendono possibile una riduzione progressiva del tempo di lavoro ecco questo ha dimostrato di essere vero ma al tempo stesso non è diciamo si è rivelato falso come tu dici se teniamo conto del fatto che quel tempo liberato dal lavoro è stato risucchiato da una figura nuova del lavoro che è il lavoro dell'attenzione a processi che sono totalmente estranei al nostro desiderio cioè le cifre che tu dicevi il lavoro è sceso dal 40% della nostra vita al 16% della nostra vita sì ma purtroppo la estrazione di valore da parte del capitale non si svolge solo in quel 16% di tempo in cui noi facciamo gli operai gli impiegati o gli ingegneri si svolge anche in tutto il resto del tempo nel quale noi siamo costantemente chiamati a rispondere a stimoli che producono valore per il capitale ma che sottraggono intelligenza vitalità piacere autonomia al nostro cervello e dal nostro corpo questo noi operaisti del rifiuto del lavoro non lo avevamo previsto non lo avevamo saputo capire e il punto è che abbiamo mancato la possibilità di aggredire il capitalismo non solo laddove si esercitava visibilmente il suo potere cioè sul posto di lavoro ma soprattutto laddove il suo potere si stava costituendo per esempio perché non abbiamo mai condotto una campagna sistematica e radicale contro la pubblicità la pubblicità è sempre apparsa come un fenomeno quasi marginale nella storia del capitalismo in realtà è stata una delle armi di distruzione più violente più pervasive che alla fine ci hanno ridotto nelle condizioni in cui la nostra attenzione non è più nostra e dunque la nostra libertà è sottoposta alla forma più subida ed improduttiva di lavoro che si possa immaginare ecco allora faremo riferimento a un altro libro importante che è scritto e si chiamava Errore di sistema insieme a Marco Magagnoli e Laura Pignatti ed era un libro dedicato ad Adbusters che è una rivista canadese che si occupava appunto di fare una critica politica alla pubblicità ma quello che è interessante è che Adbusters già 2003 quindi stiamo parlando comunque di vent'anni fa e segnalavate con Adbusters grazie al fatto che si rilevava un crescente disagio giovanile che si manifestava in disturbi in parte nuovi come le crisi di panico si manifestava nei disordini dell'attenzione si manifestava purtroppo nella crescita nell'impennata della depressione e dei suicidi giovanili quindi anche in questo caso insomma bisogna riconoscierti perché insomma grande lungimiranza nel senso che avete immediatamente messo a tema un problema che poi negli anni successivi è completamente esploso nel senso che le curve di crescita sono sempre sempre più più alte sempre più preoccupanti situazione giovanile disastrosa ma anche in questo caso l'uscita non sembra a portata di mano perché in effetti tu nel terzo inconscio scrivi che la sollevazione è terapeutica e sì la sollevazione è terapeutica però per avere la sollevazione forse sarebbe necessario che i giovani si dessero un po' di obiettivi concreti degli obiettivi realistici come di tipo politico per esempio quello di avere una scuola meno competitiva e se possibile invece più orientata agli aspetti relazionali oppure la richiesta di un reddito di cittadinanza universale e incondizionato ecco questi sarebbero sicuramente degli spunti utili diciamo così per favorire la sollevazione terapeutica dunque Edbusters è a mio parere la più grande impresa culturale degli ultimi trent'anni Edbusters inizia inizia a Vancouver nel 1993 mi capitò di trovare una copia di Edbusters in una libreria di San Francisco nel 93 da allora ho letto questa rivista ogni mese o comunque quando usciva era una rivista fatta da un gruppo di pubblicitarie di grafici canadesi che avevano deciso di abbandonare il loro lavoro considerandolo come un lavoro nocivo per la sopravvivenza del genere umano guidato da un signore che si chiama Kall Lasn un un lituano che viveva allora a Vancouver e questa rivista mi fece molto impressione perché riusciva a collegare il tema dello sfruttamento capitalistico come sfruttamento economico come sottrazione di valore riusciva a collegarlo con la sofferenza della mente umana con la produzione massiccia di sofferenza mentale e perché vedeva nella pubblicità il nucleo essenziale di questa connessione patogena nel 2003 insieme a Lorenza Pignati e Marco Magagnoli scrivemmo questo libricino che Feltrinelli pubblicò molto male e che recentemente è stato ripubblicato un po' meglio da Melteni ma lasciamo perdere ecco il punto su cui tu richiami però la mia attenzione è oggi come possiamo trovare una una via di sollevazione psichica sollevazione mentale e indichi due due campi quello del reddito di cittadinanza e adesso non mi ricordo quell'altro ma lo condividevo la scuola ecco certo la scuola e tanti altri ci sarebbero ora naturalmente io condivido interamente la la battaglia per il reddito di cittadinanza o per una scuola che corrisponda alle alle esigenze delle nuove generazioni tutte cose che diciamo da 50 anni e continueremo a dire però il punto essenziale mi pare è dentro quale contesto di aspettativa noi collochiamo le nostre rivendicazioni le nostre battaglie e così via e questo è importante è diventato importante perché altrimenti tutto suona falso se noi continuiamo a credere che sia possibile un ritorno della democrazia politica un ritorno della crescita economica un ritorno della fertilità procreativa bene intanto ci prendiamo in giro accettiamo di essere presi in giro dai da dei cretini come quelli che che leggiamo sulla stampa italiana o che ascoltiamo nella politica italiana intanto ci facciamo prendere in giro secondo luogo otteniamo soltanto sconfitte politiche perché o comprendiamo che la promessa moderna è fallita non c'è più non c'è più o comprendiamo questo o non possiamo ottenere niente allora per prima cosa dobbiamo dire non ci sarà la prossima generazione di europei perché noi non la metteremo al mondo come stanno facendo le donne dappertutto dalla Cina all'Europa al Giappone agli Stati Uniti l'umanità è finita perché le donne hanno deciso che l'umanità bianca non si riprodurrà questa è una vittoria che stiamo ottenendo due la politica la democrazia politica questa trappola in cui il capitalismo ci ha fatto cadere non si riproduce perché noi non andiamo già adesso non andiamo maggioritariamente a votare tre la grande rassegnazione di cui parlano i giornali americani consiste nel fatto che dovunque milioni di lavoratori hanno deciso una cosa semplice se devo venire a lavorare per il salario di merda che mi date sai che ti dico io sto a casa per esempio gli aerei di Ryanair sono nel disastro perché c'è il caos in tutti gli aeroporti l'altro ieri New York Times avvertiva i turisti americani che se vengono in Europa piomberanno nel caos più assoluto perché perché durante la pandemia Ryanair ha licenziato dei piloti e 20.000 persone sono state licenziate dalle compagnie aeree europee adesso stanno cercando di assumerne dei nuovi ma nessuno ci vuole andare ma tu vorresti fare il pilota quando sai che il salario è la metà di quello che prendeva un lavoratore dell'aria 20 anni fa e gli orari di lavoro sono 4 voli al giorno 5 giorni alla settimana attenzione ragazzi prendere un aereo è molto molto pericoloso ecco questo è ciò che mi fa pensare che possiamo possiamo condurre un'ultima battaglia questa battaglia è per vivere felicemente l'agonia della civiltà capitalistica noi possiamo vivere felicemente di loro non mi importa niente un'ultima soltanto un'ultima un'ultima domandina su sull'informatica sulla sull'infotelematica sul digitale perché negli anni in cui scrivevi politiche della mutazione lavoro zero anche quasi errore di sistema è relativamente ottimista non è che fossi uno che andava raccontando le magnifiche sorti dell'informatica però è relativamente ottimista rispetto alla possibilità che le nuove tecnologie usate correttamente avrebbero potuto fornire opportunità nuove di elaborazione di invenzione di emancipazione di organizzazione progressivamente io ricordo la polemica con Pierleviso la rivista Cyberzone in cui già tu dicevi eh no bisogna tenere conto del corpo no? Ecco progressivamente questa posizione eh in cui sostieni che la rete penalizza il corpo la qualità della relazione l'affettività e produce spesso fenomeni di isolamento ecco questa posizione sembra quasi scalzare il tuo ottimismo precedente no? Anche la distinzione che ha operato tra connessione e congiunzione sembra in qualche modo sostenere che la dimensione connettiva è una dimensione infelice e che tu abbia rinunciato a qualsiasi ipotesi diciamo di trasformazione basata sulle tecnologie digitali è così? Grazie Pino per questa domanda come per tutte le altre ma particolarmente per questa perché tu chiami l'attenzione mia e di chi avrà la cortesia di starci ad ascoltare su su un non voglio dire un errore ma su una contraddizione vera della quale noi ci siamo trovati a un certo punto della nostra vita gli anni novanta gli anni novanta sono un decennio straordinario perché è il decennio più contraddittorio che io possa immaginare è il decennio in cui sembra concretizzarsi o sembra sul punto di concretizzarsi l'utopia libertaria e comunista c'è un libro di Frederick Turner che si chiama From Counter Culture to Cyber Culture in cui Turner racconta molto bene come nella cultura americana degli anni sessanta e poi degli anni novanta si manifesta la consapevolezza del fatto che l'intelligenza tecno-scientifica può letteralmente liberarci dalla schiavitù del lavoro e del capitalismo Mario Savio negli anni sessanta chiama il movimento studentesco a battersi contro l'uso capitalistico della tecnologia ed ecco che negli anni novanta sembra che un esercito di ingegneri di poeti di softwareisti di artisti di pazzi di ogni genere e stia realizzando quell'utopia e la chiamavamo internet il 1994 mi capitò di organizzare un convegno che si chiamava Cibernauti con un po' di soldi dell'università di Bologna e mi chiesero mi diedero la possibilità di chiamare a Bologna Pierre Lévy Derrick De Kerkove Kim Weltman Alberto Abruzzese e tante altre persone Franco Piperlo per citarvi Franco Bolelli tante persone che in una maniera o nell'altra in maniere molto diverse stavano ragionando sulla possibilità di fare dell'intelligenza tecnica il grimaldello che rendesse possibile in una liberazione delle energie erotiche come energie produttive ecco questa era diciamo pure utopia se vogliamo o la possibilità quella finestra di possibilità durò soltanto pochi anni già nel 1995 Bill Gates l'ottimo Bill Gates lanciò Explorer che significava adesso non racconto tutta la storia ma chi ha memoria se lo ricorda significava Explorer che una corporation economica si impadroniva contemporaneamente di due accessi alla mente umana l'accesso della infrastruttura di rete e l'accesso del browser che rende possibile la navigazione all'interno di quella infrastruttura bene quel passo e noi subito lo comprendemmo io scrissi un libro che si chiama Neuromagma proprio per denunciare il fatto che Explorer era un passo pericoloso verso la corporativizzazione dello spazio libero di internet da quel momento in poi la battaglia si fece sempre più dura e in qualche modo durò fino al 2000 2001 quando il cosiddetto dot com crash la crisi delle piccole aziende informatiche distrusse l'imprenditoria libera l'imprenditoria proletaria cognitaria e impose il dominio delle grandi corporation ecco da quel momento in poi la storia l'abbiamo vista svolgere oggi internet non esiste più oggi esistono delle grandi corporation centralizzate che permettono l'accesso a degli agenti passivi che utilizzano quelle tecnologie per fare i fatti loro ma in ultima analisi per produrre profitto questo vuol dire che è chiusa la storia naturalmente no la storia non si chiude mai la storia non si chiude perché internet è un gioco infinito è uno di quei giochi nei quali chi ha vinto tutto in realtà non ha vinto niente e chi ha perso tutto in realtà è alla vigilia di una nuova possibilità di invenzione sono iconitari sono coloro che creano quotidianamente la rete con le loro parole e con i loro software con le loro immagini e con le loro tecnologie sono loro che hanno la possibilità di rendere felice il breve periodo che resta da vivere al genere umano grazie Franco ti ringrazio a nome di Transform per questa bella intervista che ci hai concesso spero che ci rivedremo ci risentiremo presto e come dire grazie a voi ciao Franco ciao ciao